Bene, cari ragazzi, cari ragazze, questo è un messaggio a Rete Unificate. Oggi è domenica, quindi per il momento nessun video di lezioni di matematica o fisica. Yuppie! E in compenso ho ricevuto alcune lettere ieri sera da alcuni di voi, alcuni di voi un po' preoccupati. Allora ho pensato potesse valere la pena vederci un attimo. Cioè voi vedete meglio, io non vedo voi, ma insomma il concetto è questo. Per dirvi alcune cose. La prima cosa che ci terrei molto a dirvi è non vi preoccupate. Non vi preoccupate perché la situazione non sia problematica, importante, complessa, ma perché ci sono persone che ci stanno lavorando, ci sono persone che si occupano di prendere decisioni, ci sono medici, infermieri, ricercatori, scienziati, personale sanitario che sta facendo miracoli e sta ogni giorno lavorando per tutti noi. Per cui non siamo allo sbaraglio. È una situazione complessa sicuramente quella che si è formata. Bisogna avere fiducia in chi in questo momento sta gestendo l'emergenza sanitaria e soprattutto bisogna fare quello che ci dicono di fare. Sono persone che hanno competenze, non sono improvvisate, per cui facciamo quello che ci dicono. Se ci dicono di chiudere la scuola, chiudiamo la scuola. Se ci dicono di non frequentare posti pieni di persone, non lo facciamo. Possiamo tranquillamente fermarci per un po' e possiamo ascoltare chi ne sa più di noi su queste cose qua. Per cui da questo punto di vista vi direi non vi preoccupate. So che avete anche preoccupazioni per quanto riguarda la scuola, la struttura, vivete in un'età in cui per voi la scuola è un pezzo importante della vostra vita quotidiana. Ecco, la scuola non è che è chiusa, sono ferme le attività didattiche. Ma questo non significa che voi non possiate contattarci, non significa che voi non possiate pensare, gestire il vostro tempo e anche mostrarvi e mostrarci che siete in grado di farlo. Ma i programmi non riusciamo a finire tutto. Pazienza, pazienza, vi dico subito pazienza. Quest'anno faremo meno, non siete dei contenitori che vanno riempiti. I programmi non esistono da tanti anni, ci sono delle indicazioni nazionali sui contenuti. Se quest'anno farete qualche autore in meno, se faremo qualche teorema in meno, non muore nessuno di questo. Non succede niente, non è la fine del mondo. Quindi tranquillizzatevi. Ma se facciamo meno, poi saremo più ignoranti. Assolutamente no. Il vostro, come dire, la costruzione del vostro sapere non passa attraverso la quantità di contenuti, ma attraverso la qualità. Anzi, questa può essere un'occasione per fermarsi un attimo, per consolidare, per capire, per studiare anche per conto vostro, per trovare modo per, in qualche modo, scoprire anche cose che magari nei ritmi forsennati della scuola di oggi non riusciamo più a vedere, no? E allora approfittate. Ma se non faremo tutto quello che è previsto sui libri, sulle indicazioni ministeriali, non sarà un problema. Su questo voglio che siate tranquilli. Avremo modo di recuperare nei modi, nei tempi che sarà opportuno, e ripeto, senza correre a riempire. Riempire, ok? Per un po' cercheremo di lavorare sulla qualità e non sulla quantità. Molti di voi so che sono anche preoccupati o preoccupate per il discorso della valutazione. Anche in questo caso vi dico, non vi preoccupate. Non è un problema. Ma non possiamo fare più compiti in classe, non possiamo più fare interrogazioni. Meglio, meglio. Vorrà dire che troveremo modo di dar valore, valutare, dar valore a ognuno e a ognuna di voi, in modo diverso, che non sia il compitino sul banchetto davanti all'insegnante che controlla che non copiate dal cellulare. Vi sto mettendo, come avete visto alcuni video, vi sto mettendo delle lettere sul mio blog, vi sto scrivendo del materiale, vi do dei suggerimenti dei libri. Fate tesoro di questo. Iniziate a cercarvi un argomento, iniziate a cercare qualche cosa che vi possa appassionare e scrivetemi. Per me questo è un compito in classe. È un compito in classe senza classe. Scrivetemi. Sono felice, qualcuno l'ha già iniziato a fare e oggi passerò la giornata a rispondere. Scrivetemi, mandatemi le vostre idee, i vostri commenti a quello che state leggendo, degli esercizi svolti, se volete fare degli esercizi, delle idee sul vostro futuro. Fate qualche cosa che possa avere valore. E questa sarà la valutazione. Poi, quando torneremo in classe, perché comunque torneremo in classe, parleremo dei compiti, delle interrogazioni, delle medie, dei voti, di cui sinceramente in questo momento non ce ne può fregare di meno. Penso anche alla quinta, la mia quintacca. Ragazzi e ragazze di quintacca, non vi preoccupate per l'esame. Arriveremo all'esame preparati. Se ci sarà un esame con modalità diverse a causa della crisi sanitaria, affronteremo l'esame con modalità diverse. Avrete l'opportunità di brillare, ognuno e ognuno di voi, come sapete brillare. Per cui non vi preoccupate anche su questo aspetto. Studiate, leggete, guardate, fate esercizi. Chiamatemi, scrivetemi di nuovo, se avete dei dubbi, e andiamo avanti in questo modo. Ripeto, non dobbiamo in questo momento riempirci di problemi inutili. Questi sono veramente problemi inutili. Piuttosto, ripeto, approfittate di questo momento per riflettere un attimo su quello che volete fare. Penso ai ragazzi e ragazze di quinta. L'anno prossimo dovrete prendere delle scelte, no? Dovrete fare delle scelte, dovrete prendere una strada. Può essere questo il momento per ragionare un attimo con calma a che cosa volete fare veramente e iniziare anche a dare un'occhiata in giro compatibilmente con il momento complesso. Detto questo, un ultimo suggerimento, poi vi lascio andare e rifarò i miei video sulla matematica e la fisica che metterò stasera e domani. Questo è un momento in cui anche si può valutare lo spessore di una persona in base ai propri comportamenti. Come sapete, io insisto molto su questo aspetto della razionalità, dell'affrontare le cose con il lume della ragione e anche della vicinanza. E allora, un suggerimento, in un momento così complicato, pensiamo anche agli altri. Pensate, per esempio, a qualcuno nella vostra famiglia, nelle vostre conoscenze, che per motivi di età o di malattia si trova magari isolato, che non può magari uscire di casa. Andate a fare la spesa per lui o per lei. Offritevi di fare le piccole commissioni che questa persona non può fare, adesso, quotidianamente. Andate a leggergli un libro. Se non potete avvicinarvi, perché magari c'è il rischio, il pericolo, magari che questa persona possa contrarre ulteriori problemi sanitari, quindi deve rimanere isolata, registrateli un libro mentre lo leggete e mandateli la registrazione. Telefonateli. E leggeteli un libro, leggeteli una poesia. Leggetelo per voi e per questa persona. Raccontateli una storia. Siate vicini in questo momento a chi magari ha più paura. Se conoscete qualcuno che vive nelle zone che sono state dichiarate zone rosse, che quindi comprensibilmente in questo momento avrà qualche ansia in più rispetto magari agli altri, fate una telefonata, mandateli una lettera, mandateli un messaggio, raccontateli quello che abbiamo fatto in classe, raccontateli della relatività, raccontateli della gravitazione universale o della teoria della probabilità, dell'infinito, quello che facciamo in classe. Diciamo, è noioso. E trovate il modo di renderlo meno noioso. Riempite anche un po' il tempo e lo spazio delle persone che in questo momento hanno più bisogno. Con piccoli gesti, non ci vuole molto, nessuno chiede di essere eroi. ci sono tanti eroi in questo momento che lavorano negli ospedali e in tutta la struttura sanitaria d'Italia e forse voi, che siete comunque il motore del futuro, potete aggiungere il vostro piccolo contributo. Se poi siete a casa e non sapete cosa fare, potete leggere. Allora, alcuni consigli di lettura, stamattina ne ho pochi. Newton, Optics. Sto pensando in particolare alla Quartenne. Ehi, Quartenne, qua dentro c'è tutto quello che abbiamo fatto con parole di qualche secolo fa. Non è un libro semplice da leggere, ma è molto interessante. Se avete voglia, lo trovate sicuramente in rete. Questo, ve ne ho già parlato in classe alcune volte, è Enri Laborit, Elogio della fuga. È un bellissimo libro, consiglio vivamente rileggere. Oggi è l'8 marzo. Auguri sinceri a tutte le ragazze, a tutte le donne che in qualche modo conosco. Allora, Virginia Woolf. Spegnere le luci e guardare il mondo di tanto in tanto. È un bellissimo piccolo libretto sulla scrittura. E per chi di voi si appassiona a la matematica, Vladimir Arnold, come sapete, uno dei miei supereroi, Huygens e Barrow, Newton e Hugh. È la nascita essenzialmente dell'analisi moderna, del calcolo differenziale, vista attraverso i quattro personaggi che hanno creato questa parte della matematica. Non avete voglia di leggere? Imparate a suonare uno strumento, imparate a suonare l'Ukulele. Costa pochissimo, divertente ed è facilissimo. E magari riuscite a passare un po' del vostro tempo in allegria. Fatto sta che adesso, scherzi a parte, cercate di star bene, siate tranquilli e razionali, però, seguite tutte le indicazioni che le autorità sanitarie e non sanitarie daranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con serenità. Evitate di stare tutto il giorno attaccati a internet, a Twitter, a Facebook, a questi cani di informazioni che stanno diventando un delirio, già lo erano prima. Piuttosto selezionate pochi canali di informazione ufficiali, l'OMS, l'Istituto Superiore di Sanità, scegliete voi, ce ne sono tanti, sono sicuro che troverete modo di discriminare quelli che sono canali di informazione seri da quelli che sono fuffa ed evitate di stare dietro a ogni singolo tweet o messaggio su Facebook o su Instagram su questa vicenda. State vicini a chi ne ha bisogno, siate sereni per la scuola, se avete domande di matematica e fisica scrivetemi in qualsiasi momento e ci vediamo presto. Fra poco vi mando altri video sulla nostra materia. Un saluto, spero veramente che state tutti e tutte bene e ci vediamo presto. Arrivederci.